Oggi è stata una giornata importante col Premier, una giornata che ci ha visto stamattina alla presentazione della candidatura dell'EMA in Pirelli, passaggio molto importante perché ovviamente vedere la squadra Presidente del Consiglio, il Governatore Maroni e il Sindaco Stavoli insieme a sostenere questa candidatura è stata molto importante per il mondo delle imprese, una candidatura che ricordiamo non è solo una candidatura di Milano e della Lombardia ma è una candidatura per tutto il Paese. Nel pomeriggio poi abbiamo speso alcune ore di visita presso tre importanti aziende che rappresentano un po' i tre grandi settori dell'Avrianze, i tre grandi settori manifatturieri, il meccatronico, la model design, il legno arredo, abbiamo visitato la BRV di Ornago, abbiamo visitato la CAI di Prevetti e devo dire che è stato molto interessante vedere il Premier, la sua competenza, la sua attenzione al mondo manifatturiero, attenzione che ha avuto al cuore della Brianza che è un cuore di eccellenza di aziende che esportano, che investono ma soprattutto un cuore di aziende che sono attenti al territorio e al sociale.